Torna il decoro presso il Lido delle Salzare ad Ardea. La Guardia Nazionale Ambientale ha annunciato la bonifica del piazzale antistante il complesso immobiliare. La rimozione dei rifiuti che giacevano sull'asfalto da diversi mesi è stata effettuata dalla ditta preposta, spiegano i volontari che proseguono. Ora si spera che i soliti incivili, considerata l'assenza di immondizie sul posto, riflettano sul loro comportamento e rispettino di più il territorio e i residenti. Per una zona ripulita però ce n'è un'altra che si è trasformata in una discarica nel quartiere Nuova California. Il cumulo di rifiuti è stato scoperto dalla stessa Guardia Ambientale che racconta Abbiamo trovato l'immondizia lungo Via Tevere all'angolo con Via Arrone durante il servizio di tutela. Torneremo a sorvegliare con frequenza il sito per non permettere a certi personaggi di dare vita ad un nuovo degrado, concludono i volontari.